Allora, ciao a tutti, aspettiamo un attimino per vedere se effettivamente siamo live su YouTube. In teoria dovrebbe esserci una decina di secondi di delay e ok, siamo live. Allora, benvenuti, benvenuti a tutti al Neo4j Milan User Group. Stasera facciamo un intro su Neo4j, visto che è un po' che siamo fermi, ricominciamo magari partendo dalle basi, quindi Alex ci farà questa introduzione su Neo4j stasera. E fra l'altro se non basta questa introduzione, sappiate che noi di Larus forniamo anche tantissimi corsi, sia su Neo4j in modo avanzato che su altre tecnologie. Quindi a fine talk magari mettiamo un link dove ci potete dare dei feedback e eventualmente essere ricontattati se avete bisogno di qualche corso in più nella vostra azienda. Vi ricordo che potete fare domande nei commenti, nella sezione dei commenti di YouTube. E vando alle ciance, vi presento Alex. Ciao Alex. Buonasera a tutti. Ciao. Allora ti lascio allo stage e ci risentiamo alla fine. Benissimo. Buon talk, bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Perfetto. Allora quindi, come diceva Davide, vediamo proprio un'introduzione all'ultima main release di Neo4j, che è Neo4j 4. Quindi partiamo con lo spiegare che cos'è un grafo. Bene, che cos'è un grafo? Quindi il grafo è una raccolta di oggetti dove ognuno dei quali ha collegamenti con altri oggetti. Quindi i grafi sono un modo utile per modellare i dati ai fini dell'analisi matematica ed esistono da parecchio tempo. Infatti il primo utilizzo documentato dei grafi fu da parte di Eoleoro nel 1735. E ha utilizzato appunto la teoria dei grafi per dimostrare che il famoso problema dei sette ponti di Conisberg non aveva soluzione. Il problema in questione richiedeva se fosse possibile eseguire un sentiero che attraversi ogni ponte una ed una sola volta. Nel processo di astrazione i nodi del grafo sono stati trasformati nelle masse di terra appunto, mentre i ponti erano rappresentati dagli archi. Bene, quindi con un grafo formato da quattro nodi e sette archi, abbiamo trovato che la risposta a questo problema è no. In quanto abbiamo tre nodi di grado 3 e un nodo di grado 5, il grado è rappresentato dalla quantità di archi che toccano ogni singolo nodo, e la condizione necessaria per cui si possa fare un cammino di questo tipo è che il grafo sia, sia connesso, ok, ma che abbia esattamente 0 o 2 nodi dispari. Quindi questa condizione non era presente. Ma cosa può rappresentare un grafo? Essenzialmente qualsiasi cosa. Delle cose più complesse come può essere la rete internet, a cose molto più semplici come una molecola d'acqua. Qui vediamo i due macro concetti rappresentati in questo schema molto semplice che abbiamo nei grafi, ovvero gli archi, le relazioni, e i nodi. Quindi, come abbiamo detto prima, le relazioni non sono altro che dei collegamenti tra due entità nodo. Quindi parliamo un attimino dei nodi. I nodi sono definiti appunto in Neo4j come gli oggetti principali di un grafo stesso. Qui vediamo che ogni nodo ha un colore diverso, per differenziarne la tipologia rispetto ad altri nodi. In questo esempio vediamo appunto un nodo blu, che rappresenta una persona, quella persona di nome Jane, e un nodo verde che rappresenta un veicolo, e quel veicolo è di tipo automobile. Le relazioni sono quindi gli archi che collegano i nodi tra di loro. possono avere dei tipi che in linguaggio naturale rappresentano la relazione che hanno i due nodi stessi, come in questo caso Jane possiede l'automobile. Un'altra cosa fondamentale in un DBA grafo è l'attraversamento, come ci dicevamo prima nell'esempio dei sette ponti di Conisberg. Durante l'attraversamento di un grafo in Neo4j, i nodi possono essere visitati anche più volte, ma solitamente la relazione viene attraversata appunto soltanto una volta. Questo è chiamato percorso un path in Neo4j appunto. Le relazioni hanno sempre una direzione in Neo4j, inoltre hanno appunto dei tipi, così da permettere di differenziare le varie tipologie appunto di relazioni che possono connettere i vari nodi. In questo esempio, sebbene il nodo 2 sia visitato più volte in questo path, nessuna relazione viene visitata più volte, in quanto abbiamo due archi che connettono i nodi 2 e 6. Quindi abbiamo visto che cos'è un grafo essenzialmente, ma che cos'è un graph DB? Un database a grafo è un database appunto che utilizza un sistema di gestione di database online con operazioni di creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione, ovvero le CRUD, che lavorano su un modello di dati appunto a grafo. Quindi, ad esempio, in un dominio aziendale, l'aspetto di un query SQL che elenca i dipendenti del reparto IT è questo, dove vediamo appunto tutte le parti di select, where e from con le relative join che siamo abituati a conoscere in una query SQL. Bene, questa è una query cipher che effettua essenzialmente lo stesso tipo di analisi. Notiamo subito che abbiamo una query da un aspetto estremamente più compatto, infatti sono molte meno righe di codice, che dobbiamo scrivere per avere quindi una query che essenzialmente ci fa ottenere lo stesso risultato. Bene, quindi, quali sono essenzialmente gli use cases dove possiamo utilizzare il database a grafo? Ci sono moltissimi usi in cui possiamo utilizzare un DB a grafo, ma ne citiamo giusto alcuni, come quelli della fraud detection, possono essere utilizzati per marketing data, appunto. Possiamo utilizzarli nei sistemi di IAM, quindi per l'identity and access management. I knowledge graph sono essenzialmente uno dei casi d'uso più importanti dove possiamo applicarvi machine learning, intelligenza artificiale e non solo. ma appunto parlando di Neo4j, Neo4j è un property graph. Che cosa vuol dire? Che è un grafo che oltre ad essere composto, quindi da nodi e relazioni, ci consente di aggiungere delle proprietà a questi elementi. Quindi i nodi e le relazioni, oltre ad essere identificati con etichette e tipologie, come abbiamo intravisto precedentemente, possono avere anche delle proprietà. Questo è un esempio molto semplice dove vediamo tre nodi, due etichettati come persona e un altro come location residence. Qui vediamo lo stesso esempio di prima arricchito anche con gli archi. Quindi vediamo quindi gli archi che vanno a connettere queste tre entità a nodo con le varie tipologie che vanno ad identificare la relazione che c'è tra un nodo e l'altro. Ad esempio, questa persona è sposata con quest'altra. Queste due persone vivono in questa casa. Ma soltanto questa persona ne è il proprietario. Quindi anche attraversando il grafo riusciamo ad ottenere altre informazioni oltre a quelle che sono insite solamente all'interno del nodo stesso o dell'arco. Bene, quindi parlando di property graph vediamo che oltre a quello che vi ho già detto possiamo aggiungerci quindi delle proprietà. Come vediamo in questo caso aggiungiamo il nome per esempio l'anno di nascita e in caso per esempio dell'arco married vediamo anche da quando sono sposate queste due persone. Quindi Dan e Dan sono sposati appunto dal 14 febbraio del 2005. Bene, durante questo percorso vedremo appunto degli esempi che vanno utilizzare il famoso movie graph di Neo4j è un db a grafo relativamente piccolo che viene utilizzato appunto per scopi dimostrativi e che vedremo appunto diverse volte. essenzialmente troviamo due tipologie di nodo che sono i movie, appunto i film e le person che possono essere attori, registi e quant'altro e abbiamo diverse tipologie di arco. Abbiamo directed, acted in, wrote, reviewed che vanno a connettere nodi di tipo person e nodi di tipo movie tra di loro ma anche abbiamo un quinto tipo di arco che è l'arco follow-ups che va ad unire persone tra di loro quindi un nodo person con un secondo nodo person. Bene, quindi come si fa a modellare un database a grafo? Bene, semplicemente partiamo dal banalissimo foglio bianco come si fa in questo caso andiamo a creare delle entità che vanno a rappresentare quelle persone e quei film che noi vogliamo rappresentare nel nostro grafo. Da questo punto si passa all'implementazione vera e propria quindi noi sappiamo che Tom Hanks è una persona ovviamente ma è anche un attore quindi questo nodo potrebbe avere appunto entrambe le etichette in questione. La Nowakowski al contrario è sì una persona ma non è un attore è un regista e quindi sarebbe più corretto etichettarlo con director. Questi sono appunto degli esempi molto semplici di modellazione di dati partendo da un foglio bianco per arrivare ad un primo embrione di di arco, di grafo scusate su Neo4j. Bene, ma adesso parliamo della Neo4j in quanto piattaforma. Bene, quindi la piattaforma Neo4j include tantissimi componenti che possono essere utilizzati appunto dai vari reparti di una di un qualsiasi azienda parliamo sia ovviamente per lato applicativo con driver ufficiali e community e relative APIs abbiamo anche tutto quanto è necessario che serve per data scientist e data analyst e così via. Vediamo rapidamente una carrellata di tutti quanti i componenti che formano appunto la graph platform di Neo4j abbiamo il DBMS in sé per sé ovviamente abbiamo Neo4j Aura che è la versione cloud appunto di Neo4j poi abbiamo Neo4j Sandbox che è molto utile per sperimentare infatti sono delle istanze cloud ma con durata molto limitata nel tempo la versione desktop di Neo4j le varie graph applications che sono appunto le applicazioni che possiamo utilizzare relativamente a Neo4j come Neo4j Browser che ci permette di interfacciarci con il DB a grafo tramite il browser o Neo4j Bloom che è un tool di data visualization vero e proprio. inoltre abbiamo la cipher shell che ci permette di interagire tramite riga di comando le librerie i driver e tutto quello che abbiamo già detto prima oltre ovviamente ai vari tool di amministrazione. Bene adesso andiamo un pochino più su concreto quindi Neo4j in quanto DBMS il database system memorizza i metadati che noi abbiamo sul database per l'installazione così come la configurazione di sicurezza questo database è associato ovviamente all'istanza in questione ed è affiancato a il DB che è il DB utente con il nome predefinito di Neo4j dove abbiamo effettivamente il nostro il nostro grafo bene in Neo4j 4 possiamo anche avere più database all'interno di un'unica istanza ma ovviamente questa è una feature che abbiamo solamente nella versione enterprise di Neo4j ovviamente possiamo anche dare dei nomi differenti ai vari DB che abbiamo all'interno delle nostre singole istanze bene adesso parliamo di una delle feature più importanti che abbiamo all'interno di un DB a grafo ovvero l'index free ad agency che cosa vuol dire vuol dire che se io dovessi andare da casa mia alla casa di Anne io uscirei di casa mia andrei verso la casa di Anne e arriverei a casa della della ragazza ma in un DB tradizionale relazionale questo non sarebbe possibile in quanto io dovrei prima andare ad interpellare un central index capire dove la la location e poi andare verso la casa di Anne mentre in Neo4j grazie all'index free ad agency quando un nodo o una relazione viene scritta nel database questa viene memorizzata come connessa e qualsiasi accesso ai dati che viene effettuato utilizzando la navigazione del puntatore è estremamente veloce poiché appunto Neo4j è un database a grafo nativo cioè utilizza il grafo come modello dati di base questo appunto ci permette di supportare anche grafi estremamente grandi in cui i dati connessi possono essere attraversati in tempo costante senza quindi la necessità di un central index quindi anche con basi di dati molto grandi cosa che solitamente negli rdbms non succede abbiamo un tempo di attraversamento del grafo che è sempre quello mentre con basi di dati appunto tradizionali quando il db cresce potremmo incorrere in problemi di performance Neo4j almeno nella concezione originale di quasi tutti i db no sequel è uno dei pochi ad essere acid compliance quindi essenzialmente rispetta le famose proprietà acide di atomicità coerenza isolamento e durabilità Neo4j inoltre supporta i cluster che quindi ci permettono di fornire un'altra disponibilità scalare in maniera orizzontale per l'accesso in lettura e essere resistenti al failover che è molto importante in tanti contesti enterprise questa feature dei cluster è disponibile soltanto per la versione enterprise di Neo4j il graph engine di Neo4j invece viene utilizzato per interpretare le istruzioni server che abbiamo intravisto prima ed esegue anche il codice a livello kernel per archiviare e recuperare i dati sia che si trovino su disco o che vengono memorizzate all'interno della cache il graph engine è stato migliorato versione dopo versione di Neo4j per fornire l'accesso più efficiente ai dati del grafo esistono molti modi per regolare le prestazioni del motore per adattarle alle esigenze della specifica dello specifico use case vediamo appunto intravediamo un attimino anche Aura come vi ho già detto prima è l'istanza cloud di Neo4j appunto dove possiamo dare in mano al team di Neo4j essenzialmente la cura di tutto poi abbiamo appunto sandbox che è un modo con cui iniziare lo sviluppo è un'istanza gratuita temporanea è sempre cloud based sui server appunto di Neo4j con un grafo associato a cui è possibile accedere anche via web browser il database è in una sandbox potrebbe anche essere vuoto oppure essere già popolato con alcuni esempi di dataset che vengono fornite appunto da Neo4j stessa abbiamo visto pure Neo4j desktop è disponibile per tutti i sistemi operativi principali quindi macOS linux e windows qui intravediamo appunto la gallery delle varie graph apps citiamo giusto al volo l'etl tool oppure appunto il query log organizer ma noi abbiamo veramente diverse e molto utili quindi come abbiamo detto già prima abbiamo il Neo4j browser che ci permette di interfacciarci per testare i query e visualizzare il grafo via web browser Neo4j bloom che è uno strumento per esplorare grafi generare codice cipher e fare data visualization Neo4j etl tool che è un'interfaccia utente per la connessione da diverse fonti per importare i dati all'interno del grafo ilin che ci permette di monitorare il database il query log analyzer che ci analizza appunto le query eseguite all'interno del sistema Neo4j cloud tool per poter lavorare con Aura e tutta la libreria delle algos playground che esegue algoritmi su grafo per appunto effettuare anche analisi di data science quindi vediamo vediamo appunto un attimino che cosa ci permette di fare Neo4j browser è un'interfaccia grafica appunto che si collega con istanzi Neo4j server ci permette di eseguire codice cipher per recuperare o creare dati ci permette di visualizzare i dati restituiti come nodi o tabelle e ci permette di eseguire procedure e comandi incorporati i famosi building function appunto esistono due modi per utilizzare le funzionalità del Neo4j browser un appunto è quella via browser web come vi ho già detto oppure anche utilizzando Neo4j desktop bene Neo4j browser è appunto un'applicazione grafica fornita con Neo4j desktop out of the box in genere lo si utilizza per accedere a un db in esecuzione localmente ma è anche possibile utilizzarlo per accedere a db remoti possiamo anche salvare codice cipher per avere delle query salvate essenzialmente nei preferiti possiamo quindi poi scaricarli in modo da poter anche lavorare altrove quindi Neo4j browser vediamo appunto che ci permette di effettuare accesso in maniera diretta lanciando delle query e restituendo appunto porzioni di grafo relativamente alle query che eseguiamo bene parlando invece di bloom bloom ci permette appunto di fare della data visualizzazione la presentazione visiva dei dati del grafo viene fatta appunto in modo tangibile anche permettendoci di vedere delle connessioni che non sono ovvie visualizzazioni di facili di comprensione ci permettono di spiegare appunto le connessioni che ci sono tra i dati e gli strumenti di ricerca senza codice ci consentono di esplorare rapidamente i dati anche senza particolari competenze tecniche la cipher shell fa parte appunto dei vari tool che vengono installati out of the box e si trova nella directory bin di neo4j è uno strumento da riga di comando appunto che si può utilizzare per connettersi ad un'istanza neo4j ed eseguire delle query cipher direttamente appunto da riga di comando abbiamo le varie librerie i plugins che possono essere installati abbiamo appunto le apoc abbiamo i graph algorithms e i graph ql in realtà sono state anche aggiunti altri nuovi plugin nelle ultime release bene relativamente invece ai driver e ai linguaggi supportati ufficialmente sono supportati java javascript python dotnet e go ma abbiamo anche una vasta pletora di driver community comunque riconosciuti dalla casa madre appunto dove abbiamo tantissimi altri linguaggi che sono invece supportati in quest'altro modo bene neo4j si integra perfettamente anche con grandstack cattle docker e apache kafka tutti tool appunto che ci permettono di fare integrazioni su più su più livelli su più fronti parlando invece di tool di amministrazione gli sviluppatori gli amministratori di sistema utilizzano appunto strumenti di rica di comando per la gestione del dbms neo4j fornisce essenzialmente tre principali tool appunto la la sefer shell che abbiamo già visto prima che ci permette di creare avviare arrestare rilasciare il db anche interrogarlo facendo appunto delle query poi abbiamo neo4j che appunto ci permette di avviare arrestare e recuperare lo stato di un'istanza e neo4j admin che ci permette di creare copiare rimuovere fare backup ripristinare ed eseguire altre attività di tipo amministrativo in neo4j desktop si ha la possibilità anche di appunto arrestare e avviare e creare nuovi database quindi direttamente da un'interfaccia di tipo di tipo grafico bene adesso cominciamo a vedere un pochino che cos'è cipher bene cipher appunto è il linguaggio di interrogazione che utilizza neo4j è un linguaggio dichiarativo che ci permette di interrogare il grafo ci permette di aggiornare il grafo ed ha una sintassi che vuole essere volutamente di facile comprensione questo perché utilizza la cosiddetta ASCII art infatti è ottimizzato per essere letto dagli esseri umani e il costrutto del cipher utilizza la prosa della lingua inglese della prosa e l'iconografia della lingua inglese appunto la SCI art per rendere le query più autoesplicative possibili qui vediamo poi vedremo meglio che cosa vogliono dire queste varie parentesi comunque ad A piace B viene effettuata proprio una scrittura in questo senso simulando la forma dei nodi e la forma degli archi con tanto di freccia essendo quindi un linguaggio dichiarativo cipher si concentra sulla chiarezza nell'esprimere cosa dobbiamo recuperare dal grafo e non sul come dobbiamo farlo quello non è un problema nostro possiamo pensare a cipher come la mappatura della struttura di una frase in lingua inglese dei modelli che abbiamo sul grafo ad esempio i nomi sono nodi del grafo i verbi sono le relazioni del grafo mentre gli aggettivi e gli averbi possono essere delle proprietà come in questo caso vediamo appunto person diventano appunto dei nodi married diventa un arco e la data appunto diventa una proprietà bene quindi cipher utilizza una coppia di parentesi tonde per rappresentare il nodo proprio come se fosse il cerchio su una lavagna quando si specifica una variabile all'interno delle parentesi questo serve per comunicare al query processor che per quella query quella variabile rappresenta i nodi che verranno elaborati successivamente nella query per ulteriori elaborazioni della query o direttamente per restituirne i valori scusate mentre relativamente alle etichette i nodi in un grafo sono generalmente etichettati le etichette vengono utilizzate per raggruppare e filtrare le query i nodi tramite delle query sul grafo quindi le etichette possono essere utilizzate per ottimizzare le query nel movie graph i nodi in questo caso sono stati etichettati come ho già detto come movie o person possiamo vedere le etichette che abbiamo in un database semplicemente facendo clic su questa icona del db Neo4j browser e quindi ci verranno ritornate a video le etichette possiamo anche filtrare i tipi di nodi che vogliamo interrogare specificando un'etichetta per nodo un nodo può anche avere zero o anche più etichette contemporaneamente bene la sintassi quindi come abbiamo visto è molto semplice ci permette di utilizzare una coppia di parentesi tonde per rappresentare il nodo assegnarvi una variabile e se vogliamo specificare una determinata tipologia di etichette utilizzare i due punti come in questo caso ovviamente possiamo anche combinare queste cose quindi come in questo caso abbiamo la variabile poi i due punti e l'etichetta qualora volessimo più etichette ci basterà intervallarle con dei due punti come viene fatto in questo caso quindi vediamo qui quello che abbiamo visto poc'anzi ma in codice vero e proprio quindi qui abbiamo un nodo anonimo qui che viene rappresentato con la variabile p qua un nodo anonimo ma che richiede l'etichetta person qui i nodi p che hanno l'etichetta person e qui invece i nodi p devono avere l'etichetta actor e quella director i commenti molto semplicemente come vengono fatti in tantissimi altri linguaggi possono essere aggiunti utilizzando banalmente una coppia di slash anche in line come vediamo in questo esempio possiamo esaminare comodamente lo schema di un db a grafo utilizzando semplicemente questo comando molto comodo col db schema visualization e ci verrà tornato appunto a video una rappresentazione di cosa abbiamo nel nostro grafo quindi in questo caso riprendendo il movie graph di prima i nodi person e movie e i cinque tipi di archi che vanno a connetterli oltre all'arco di tipo follow che connette persone con altre persone quindi per andare a recuperare i nodi all'interno di un grafo quindi essenzialmente fare una una sorta di select vediamola così facendo un paragone con il mondo relazionale utilizziamo il comando match quindi match dopodiché andiamo a specificare il nodo che ovviamente può anche avere un'etichetta e poi utilizzando la variabile specificata nello stage precedente in return possiamo far tornare quello che viene recuperato nel grafo come in questo caso non facendo nessun tipo di filtro tramite le etichette questa query funzionante recupererà tutti quanti i nodi nel grafo andando ad aggiungere quindi due punti person andremo a recuperare tutti i nodi con l'etichetta person all'interno del nostro grafo bene possiamo vedere i nodi sia appunto come grafo come abbiamo visto poc'anzi ma cliccando banalmente su table possiamo anche vederli rappresentati appunto sotto forme di mappe dove vedremo tutte le coppie che rappresentano le varie property per ogni singolo nodo che viene recuperato in questa maniera le property appunto come abbiamo già detto prima rappresentano tutti i valori che noi vogliamo associare a un determinato nodo ovviamente non ci è preclusa la possibilità di avere set di property diversi per diversi nodi anche se questi condividono delle etichette come vediamo in questo caso abbiamo questo nodo che non ha la property tagline cosa che invece hanno p for vendetta e matrix reloaded possiamo possiamo anche esaminare tutte quante le property che abbiamo all'interno del nostro grafo utilizzando semplicemente il comando col db property keys e vedremo tutte le property che sono presenti all'interno del nostro grafo un altro modo per recuperare le informazioni dal nostro grafo ed essere un po' più specifici rispetto ad utilizzare solamente l'etichetta è quello di andare a filtrare anche per proprietà come facciamo semplicemente in questa maniera andiamo ad aggiungere all'interno della coppia di parentesi tonde una coppia di parentesi quadre dove andremo a scrivere la chiave della proprietà che ci interessa e il valore che vogliamo riportare ovviamente questo può essere combinato anche con l'utilizzo di un'etichetta e possiamo fare questo filtro anche per più proprietà contemporaneamente ci basterà intervallare le coppie chiave valore con una virgola qui vediamo un esempio dove andiamo a prendere dal nostro grafo tutte le persone che sono nate nel 1970 quindi ci verranno tornate queste persone che hanno questo valore per questa determinata property e che hanno questa etichetta ovviamente possiamo utilizzare come ho già detto un filtro per più proprietà contemporaneamente quindi andremo a prendere un film che è uscito nel 2003 con la tagline free your mind e ci viene fuori matrix reloaded piuttosto che che ritornare i nodi per intero possiamo anche far tornare solamente determinate proprietà per farlo ci basterà utilizzare la dot annotation quindi riportare la variabile presa dagli steggi precedenti punto e il nome della property ci tengo a sottolineare che la property che noi vogliamo far tornare non è detto non deve essere la property che viene utilizzata nello stage precedente di match come in questo esempio la property 1 viene utilizzata per filtrare la property 2 viene ritornata in questo esempio infatti vediamo che vengono fatti tornare solamente i nomi e gli anni di nascita relativamente alla match sopra che vediamo sopra bene se si desidera che un'intestazione non vada bene per i nostri scopi possiamo utilizzare degli alias in maniera del tutto analoga come facciamo con il sequel con has quindi andiamo a far tornare questa proprietà ma che avrà essenzialmente un altro nome un vero e proprio alias appunto se vogliamo utilizzare degli alias che hanno degli spazi possiamo farlo a patto di utilizzare l'accento grave per appunto contenere l'alias per l'intero invece che le normali virgole o doppie virgolette virgolette o doppie virgolette in effetti si possono specificare qualsiasi variabile etichetta tipo di relazione o chiave di proprietà con uno spazio anche utilizzando la stessa modalità usando appunto l'accento grave come in questo esempio vediamo appunto che invece di born vogliamo far tornare birth year e possiamo farlo in questa maniera molto semplicemente mentre qui facciamo tornare semplicemente name non contiene spazi possiamo fare a meno degli accenti gravi adesso parliamo degli archi sono appunto i collegamenti diretti tra due nodi le relazioni hanno un tipo possono avere delle proprietà proprio come i nodi e sono fondamentali ovviamente per attraversare il grafo bene anche in questo caso facciamo utilizzo della ASCII art gli archi vengono rappresentati appunto con una coppia di trattini in questo caso avremo una relazione appunto senza direzione attenzione in Neo4j non possiamo avere archi senza direzione ma possiamo fare interrogazioni delle quali possiamo fare a meno della direzione ovvero ignorare la direzione l'importante è che abbiamo un arco che connetta due nodi una relazione che li colleghi ovviamente se invece andiamo a porre una parentesi angolare in un senso o nell'altro andremo a decidere durante la nostra interrogazione anche il verso che deve avere quella relazione bene in maniera del tutto analoga alle etichette utilizziamo i due punti e il tipo della relazione semplicemente aggiungendo però tra i due trattini una coppia di parentesi quadre possiamo utilizzare anche una pipe per dire quando vogliamo archi di un tipo o di un altro quando lanciamo appunto il comando di schema visualization che abbiamo notato prima possiamo vedere appunto anche tutti quanti gli archi che sono presenti all'interno del nostro grafo bene questo è un esempio di interrogazione come vi dicevo prima andiamo ad apporre qui il tipo di arco che ci interessa possiamo anche segnarvi una variabile quindi andando a far tornare p rel ed m facciamo tornare essenzialmente tutto quanto il path per intero quindi i nodi person gli archi acted in e i nodi movie possiamo anche ovviamente specificare degli archi come abbiamo già detto prima per ottimizzare l'esecuzione delle query quindi come vediamo anche in questo esempio questo tipo di query è meno performante rispetto ad una query dove abbiamo tutte quante le etichette all'interno all'interno della nostra interrogazione come dicevo prima questo tipo di interrogazione con la pipe ci permette di andare a vedere relazioni che vanno a connettere questi due tipi di nodi ma che possono essere sia acted in che directed ovviamente i nodi possono anche essere anonimi nel caso appunto come in questo esempio non dobbiamo utilizzare più questo determinato tipo di nodo negli stage successivi della query quindi prendiamo p e quello che ci interessa infatti lo ritroveremo nella return possiamo anonimizzare anche le relazioni come in questo esempio dove mettiamo semplicemente la coppia di trattini con la parentesi angolare che ne indica il verso ma non ci interessa quale sia il tipo della relazione infatti qui vediamo che abbiamo acted in directed e produced le relazioni anonime possono essere rappresentate oltre la maniera che abbiamo già visto con la semplice coppia di trattini qualora vogliamo ignorare anche la direzione o anche in quest'altro modo con la coppia di parentesi quadre al centro anch'essa vuota ma le best practice che ci consiglia le 4j sono quelle di utilizzare in questi casi la semplice coppia di trattini evitando le parentesi quadre vuote possiamo recuperare la tipologia di tipo utilizzando una built in function molto utile che è quella di type che vediamo qui dove andiamo a prendere questi archi anonimi però qui assegniamo una variabile e quindi ci permette di tornare il tipo di arco che ci permette di trovare questo tipo di persona quindi persone che hanno avuto a che fare con matrix nella relazione del film e qui vediamo il ruolo essenzialmente che hanno avuto questo è un altro esempio di di grafo di property graph come abbiamo visto già precedentemente in altri esempi dove abbiamo queste relazioni conversi da nodi di tipo person verso nodi etichettati come movie con appunto proprietà in questo caso uguali possiamo recuperare anche per le relazioni le proprietà utilizzando la dot annotation come vediamo e possiamo filtrare per 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 relazione scusate come abbiamo visto per i nodi quindi andiamo ad utilizzare una coppia di parentesi graffe chiave e valore desiderato i pattern sono molto importanti come abbiamo già accennato prima in questo esempio vediamo persone che si seguono vicendevolmente che sono collegate dalla relazione follow bene appunto questa query ci andrà a far vedere quali sono i follower di Angela Scope quindi Angela Scope fungerà da query anchor in quanto il graph engine parte da questo nodo per fare la traversata sa che il nodo di destinazione è appunto Angela Scope quindi attraversa all'inverso non è assolutamente un problema l'arco per trovare poll e infatti sarà questo il risultato della nostra query ovviamente andando a ribaltare il verso della relazione ma utilizzando la stessa query di prima il risultato sarà differente per ovvi motivi in quanto queste saranno non le persone che seguono Angela ma le persone seguite da Angela utilizzando invece una un arco una relazione senza una direzione andremo a prendere sia i follower che le persone che segue Angela quindi andremo a ottenere un risultato ancora differente dato che abbiamo un grafo e possiamo attraversare i nodi per ottenere ulteriori relazioni nell'attraversamento come nell'esempio possiamo riscrivere quindi una query cipher per istituire tutti quanti i follower dei follower di Jessica thompson quindi la nostra query anchor sarà jessica il query engine attraversa l'indietro questa relazione troverà questi due nodi ma dovrà fare un secondo salto qui qui gli sarà permesso perché troverà l'arco che gli serve per arrivare quindi a pole in questo caso non troverà nulla quindi di conseguenza l'unico nodo che verrà restituito da questa query sarà appunto il nodo pole in questo caso invece vediamo appunto persone che seguono altre persone che seguono Jessica e quindi vediamo appunto tutto il pattern che abbiamo notato prima esplicitato in questa maniera pole che segue Angela che segue Jessica possiamo utilizzare i pattern anche per ottenere delle informazioni particolari come ci siamo detti anche prima quindi come in questo esempio dove vediamo persone che hanno recitato in dei film e i registi che li hanno diretti quegli stessi film infatti vediamo un unico pattern che hanno che fa questo tipo di analisi piuttosto che andare a tornare tutti quanti i componenti del path possiamo anche utilizzare una notazione più comoda che è questa quindi diamo una variabile poi l'uguale e il path in questo caso verrà preso tutto quanto il path per gli stage successivi della nostra query infatti anche in questo caso avremo quindi a prendere Ron Howard i film che ha diretto e le persone che vi hanno recitato ed è questo appunto il risultato quindi qualche raccomandazione su sullo stile delle nostre query cypher i nomi ad eccezione delle parole chiave sono case sensitive le etichette dei nodi dovrebbero essere rappresentate camel case con la prima lettera maiuscola le proprietà le variabili i parametri gli alias e le funzioni sempre camel case ma con l'iniziale minuscola i tipi delle relazioni in maiuscolo e possono anche utilizzare il trattino basso le parole chiave cypher scritte in maiuscolo le costanti sempre tra virgolette virgolette singole apici specificare le relazioni anonime come abbiamo già detto prima con la coppia di trattini e in ultimo posizionare nodi e relazioni con appunto nomi che utilizzano quindi le variabili prima di quelle anonime quindi qui vediamo un esempio che utilizza tutte queste regole che vi ho appena descritto bene adesso andiamo di introdurre uno statement molto importante where where ci permette di effettuare appunto dei filtri relativamente alle match che abbiamo già visto prima in questo caso queste due query cypher sono essenzialmente equivalenti infatti la parte di filtering che facciamo qui viene semplicemente spostata nella where part in maniera del tutto analoga come viene fatta con SQL ovviamente la where è più potente rispetto all'utilizzo statico della match in quella maniera perché andiamo solamente per uguaglianze essenzialmente infatti in questo esempio possiamo fare riferimento soltanto ai nodi o alle relazioni con appunto una variabile all'interno poi nella clausula where nel senso una variabile che va a identificare degli elementi nella match poi possiamo utilizzarla nella where part quindi dobbiamo ricordarci di specificare le variabili per tutti quegli elementi che dopo vogliamo passare alla where part il vantaggio dell'utilizzo della where appunto che possiamo esplicitare delle condizioni molto più complesse rispetto a quelle di semplice uguaglianza come ci dicevamo prima e in questo esempio vediamo banalmente l'utilizzo di una or in maniera del tutto analoga come si fa su sequel bene in quest'altro esempio invece andiamo ad utilizzare un range quindi con la end vediamo tutti quanti i film che sono stati rilasciati essenzialmente tra il 2004 e il 2003 possiamo anche utilizzare i range con una notazione differente come questa per ottenere lo stesso identico risultato possiamo anche fare questo discorso per le etichette cioè andare ad esporre la parte relativa all'etichetta che vogliamo nella where come viene fatto in questo caso e come facciamo anche qui dove andiamo a spostare sia la parte relativa alle etichette che relativamente alla property di nostro interesse in questo caso title possiamo anche testare l'esistenza di una property utilizzando la balting function exists appunto ci permette di controllare che una determinata proprietà sia presente appunto in questo caso nei nodi movie possiamo anche fare del filtering sulle stringhe relativamente alle property un esempio è starts with quindi andremo a vedere che la property name inizi con michael e otteniamo infatti questi risultati quindi vediamo essenzialmente gli attori perché appunto hanno l'arco acted in la relazione acted in che li connette a qualcos'altro però appunto avendo una relazione acted in saranno attori quindi abbiamo tutti gli attori che si chiamano michael bisogna stare attenti in quanto la string comparison è case sensitive infatti in questo esempio abbiamo semplicemente convertito la proprietà di prima in minuscolo utilizzando il to lower per ottenere essenzialmente lo stesso tipo di risultato possiamo anche utilizzare le regex infatti possiamo utilizzarle apponendo una tilde prima della regex stessa quindi con uguale tilde ponendo la regex andiamo a effettuare appunto un filtraggio per regular expression bisogna semplicemente stare attenti al fatto che utilizzando le regex non utilizziamo gli indici quando utilizziamo appunto le regex in neo4j e ovviamente il valore della proprietà deve corrispondere perfettamente completamente alla regex in questione quindi vediamo questo esempio dove troviamo le persone che hanno scritto dei film e quindi andiamo a far tornare queste persone con i relativi titoli e in questa versione arricchita della stessa query andiamo a vedere che queste persone che hanno scritto questi film non sono le persone che li hanno diretti quindi where not exists abbiamo già visto prima e aggiungiamo un pattern quindi non deve esistere questo pattern per le stesse per i stessi nodi che abbiamo sopra infatti sono identificati con delle variabili vengono poi passati alla return dopo aver fatto questo tipo di filtro in quest'altro esempio vogliamo vedere tutti quanti gli attori che hanno lavorato con Gene Ackman quindi Gene Gene Ackman lo vediamo qui nella guerra ha lavorato ha ha recitato in determinati film e queste altre persone non devono anzi scusate devono averli diretti quindi vedremo tutte quante le persone che hanno lavorato con Gene Ackman ma che sono stati anche quindi i registi di quei determinati film e infatti vediamo qui che abbiamo Clint Eastwood connesso a questo film che è contemporaneamente connesso con la relazione directed e con quella acted in possiamo anche filtrare utilizzando le liste comodamente con il comando in come in questo caso possiamo anche invertire il paradigma utilizzando in in quest'altra maniera ci sono una serie di elementi della sintassi di Cypher che non abbiamo trattato per motivi di tempo ma possiamo utilizzare anche case che ci permette di ottenere delle logiche più complesse all'interno della work part stessa e adesso parliamo della return che abbiamo già intravisto intravisto prima in casi come questo avremo inevitabilmente dei duplicati come possiamo notare per esempio what thing you do è presente due volte all'interno di questa query come risultato bene possiamo evitare questo utilizzando semplicemente distinct ponendo distinct davanti appunto alla property in questione non avremo più duplicati all'interno dei valori che vengono tornati possiamo utilizzare il comando collect per creare delle liste relativamente ai valori di determinate property ma qualora volessimo evitare duplicati anche all'interno di queste ci basterà utilizzare distinct anche in questo caso nella stessa identica maniera essenzialmente possiamo utilizzare distinct anche con width che è uno statement che ci permette semplicemente di effettuare dei passaggi ulteriori tra uno stage e l'altro in questo caso andremo a effettuare una distinct prima della return su m quindi sui film possiamo anche ordinare i risultati utilizzando una order by mutuata praticamente da da sequel come la scriviamo e possiamo utilizzare desk per avere un ordinamento decrescente possiamo fare anche un ordinamento multiplo ci basterà quindi utilizzare una virgola per intervallare una seconda proprietà che quindi verrà utilizzata come elemento per decidere dove apporre determinati valori che vengono tornati qualora ci fossero degli delle uguaglianze e quindi porli in maniera differenziata rispetto all'ordine che ci siamo dati quindi prima sarà il valore released qualora ci siano degli exequo in questo caso verrà utilizzato title possiamo limitare il numero di risultati che vengono tornati semplici utilizzando limit quindi limit utilizzando un numero ci permette di andare a prendere soltanto 10 risultati combinato con la order buy ci permetterà di conseguenza di prendere i film i 10 film che sono usciti più di recente possiamo utilizzare limit tranquillamente anche nella width quindi come passaggio intermedio questo è un altro esempio di utilizzo di limit dove appunto prima andiamo a prendere i film riduciamo il numero a 5 a questo punto andremo a fare un nuovo path a cercare un nuovo path con una match quindi andremo a passare questi valori dentro un'altra width dove riprendiamo i film di prima i path presi e collezionati e a questo punto ritornare soltanto una parte dei pattern ritrovati in questo modo alternative alla limite che possiamo utilizzare sono l'account appunto in maniera del tutto analoga al sequel dove andiamo a effettuare un account e quindi poi un aware su quest'account che abbiamo appena fatto oppure utilizzare la balding function size sempre incoppiata con una where part bene adesso andiamo a parlare di come creiamo i nodi bene per creare un nodo la sintassia essenzialmente è la stessa di una match quindi abbiamo variabili label e proprietà questo esempio vediamo che si va a creare il nodo con il titolo Batman Begins etichettato come film in quest'altro esempio abbiamo la stessa cosa ma con l'aggiunta dell'etichetta action dobbiamo stare attenti a quando effettuiamo questo tipo di operazione ovviamente perché la create non va a controllare se abbiamo dei duplicati quindi se abbiamo un nodo che è identico a quello che abbiamo già creato ci verrà creato semplicemente un un doppione bene quindi questa è la creazione del nodo di cui parlavamo prima e qui andiamo a fare una match per andare a recuperare il nodo stesso possiamo anche fare una creazione multipla di nodi infatti il grafengen andrà a creare tanti nodi che possono essere intervallati semplicemente con delle virgole con un unico comando create ma appunto bisogna stare attenti per evitare quello che dicevo prima circa la creazione dei duplicati questo può essere fatto utilizzando merge al posto di create oppure aggiungendo delle costraint al nostro grafo possiamo aggiungere delle label ai nostri nodi utilizzando set come vediamo qui anche più label più etichette contemporaneamente quindi in questo caso andiamo a recuperare Batman Begins e gli aggiungiamo l'etichetta fantasy e vediamo infatti facendo tornare tutte le etichette assegnate a questo film ne abbiamo tre in questo caso adesso possiamo rimuoverle nella stessa maniera quindi utilizzando però il comando remove in questo caso andremo a rimuovere action e fantasy e quindi rimarrà solamente l'etichetta movie possiamo utilizzare il comando set anche per aggiungere delle proprietà come vediamo in questi casi possiamo fare per più coppie chiave valore intervallando con una virgola possiamo utilizzare anche la mappa notation ma in questo caso bisogna stare attenti perché l'utilizzo dell'uguale va a sovrascrivere tutte le proprietà già presenti per poi mettere quelle che abbiamo nella mappa quindi essenzialmente cancella le vecchie e mette le nuove mentre la più uguale va ad appendere le property che dobbiamo aggiungere nella nostra mappa ma conservando quelle già esistenti quindi in questo caso prendiamo il nodo che abbiamo creato prima e aggiungiamo le proprietà released con l'olore 2005 e length in minutes con il valore 140 appunto qui invece utilizziamo la la versione con la mappa dove andiamo a passare questa mappa ricca di tutte queste cinque proprietà quindi possiamo vedere nello stesso modo come abbiamo fatto prima le proprietà che sono all'interno del nostro grafo bene per recuperare le proprietà e vedere quali siano le proprietà che abbiamo inserito poc'anzi utilizziamo sempre properties e qualora volessimo appunto modificarle vediamo che utilizzando la modalità append adesso abbiamo una proprietà in più e quella che aveva la chiave già presente ha avuto semplicemente l'aggiornamento del valore infatti rivediamo qui gross millions 206 e qua dicente invece 300 con awards che invece qui non era presente per rimuoverle abbiamo due modalità la prima utilizzando remove nella stessa maniera delle etichette l'altra è ponendo quella proprietà a null supponendo di aver precedentemente creato quindi il nodo per il film con queste proprietà il risultato dell'esecuzione di questa query cipher in cui andiamo a rimuovere essenzialmente ogni proprietà in modo differente un modo per rimuovere la proprietà utilizzando la clausola set per impostare quindi la proprietà a null come vediamo qui per gross millions un altro modo invece è quello di utilizzare la remove come abbiamo già visto prima bene adesso andiamo a vedere invece come creiamo le relazioni gli archi bene il sistema è lo stesso di prima andiamo a descrivere un path e utilizziamo create invece di match essenzialmente quindi in questo caso andremo a trovare Michael Caine il film Batman Begins nei primi due in due righe e nello stage di creation andiamo quindi a creare questa relazione che li connette infatti questo è il risultato che otterremo qualora poi andessimo a recuperare le informazioni possiamo anche quindi creare più relazioni contemporaneamente qualora queste appunto vengano descritte nel nostro nel nostro pattern quando creiamo relazioni basate sulla clausola di match dobbiamo essere sicuri che venga restituito soltanto un nodo altrimenti dalla clausola di match intendo altrimenti verranno create più relazioni ovviamente quindi se questa variabile rappresenta più nodi andremo a creare più relazioni che partono da questi nodi possiamo ovviamente creare relazioni che hanno anche delle proprietà andando a utilizzare la stessa modalità di prima e possiamo creare contemporaneamente anche nodi relazioni come in questo caso dove troviamo il nodo batman begins e quindi successivamente nella create andiamo ad aggiungere acted in e un nodo con l'etichetta person a cui poi settiamo le proprietà gary oldman come name e l'anno di nascita 1958 e infatti lo vediamo in questo caso l'aggiunta delle relazioni per delle proprietà per le relazioni è la stessa identica dei nodi quindi vale già quanto ci siamo detti prima infatti in questo caso andiamo a fare una set della property roles che contiene una lista e infatti verrà aggiornata questa property in questa maniera possiamo quindi aggiungere come ci siamo detti prima le proprietà anche in quest'altro modo per impostazione predefinita il graph engine andrà a creare una relazione tra due nodi anche se ne esiste già una questo potrebbe essere pericoloso quindi bisogna essere sicuri che si stia utilizzando la create in maniera oculata per evitare appunto di creare dei doppioni modo migliore per evitare la duplicazione delle relazioni e utilizzare la clausola merge come ci siamo detti prima al posto della create appunto questa va prima a controllare l'esistenza del pattern che viene descritto e se questo non esiste allora andrà a crearlo la rimozione appunto delle proprietà dalle relazioni viene fatta alla stessa maniera quindi con remove o impostando quella proprietà a null e adesso passiamo alla cancellazione sia di nodi che di relazioni bene qui vediamo appunto la creazione di un nodo persona qualora poi volessimo cancellare questo stesso nodo ci basterà quindi prima recuperarlo come in questo caso con una match e poi utilizzare lo statement delete quindi in questo caso andremo a cancellare un nodo che è quello che abbiamo creato in quest'altra query in quest'altro esempio appunto vediamo la creazione di un nuovo pattern dove abbiamo Katie Holmes e il film Batman Begins che vengono recuperati in questa prima match la creazione di due archi che vanno a connettere Katie Holmes con il film Wrote e Directed rispettivamente e quindi andiamo a vedere le relazioni che adesso connettono Katie Holmes con il film e sono Wrote Directed ed Acted In quindi ci sono tre archi che adesso connettono Katie Holmes con il film qualora andassimo effettuare una cancellazione di questo tipo ovviamente l'unico arco superstite sarebbe quello Acted In in quanto nella match andiamo a recuperare gli archi sia Directed che Wrote questi vengono associati alla variabile rel che viene passata allo statement Delete e quindi va ad eliminarli entrambi infatti questo è il risultato che otteniamo rimane in piedi solamente la relazione ActedIn Come vediamo in questo caso appunto se andiamo a contare le relazioni che ha appunto il nodo Katie Holmes l'account ci restituirà semplicemente uno a conferma di quanto dicevo prima Se invece andassimo ad eliminare il nodo Liam Neeson noteremmo questo tipo di errore per quale motivo? Perché Neo4j impedisce appunto il graph engineering ci impedisce di eliminare dei nodi che hanno delle relazioni ancora in essere quindi un nodo per poter essere eliminato non deve avere nessuna relazione adesso connessa un modo piuttosto passate il mio termine pericoloso per farlo comunque è utilizzare Detach Delete infatti questo tipo di di statement va a distruggere sì il nodo in questione ma anche tutti quanti gli archi che sono connessi a quel nodo quindi è parecchio è parecchio distruttivo infatti qui vediamo che lo stesso comando di prima adesso effettuerà l'eliminazione ma ci dice anche che oltre al nodo in questione avrà eliminato anche una relazione bene io vi vi ringrazio di cuore per l'attenzione se avete domande siamo a disposizione e con l'occasione faccio presente che per corsi ben più avanzati approfonditi appunto la RUS offre anche corsi di formazione su Neo4j e anche su altre tecnologie NoSQL e non solo grazie Alex allora grazie mille intanto appunto come diceva Alex dato che offriamo corsi su varie tecnologie questo è l'email del nostro ufficio marketing quindi se volete contattarli potete scrivere quell'email oppure compilando il form di feedback c'è anche una vi chiediamo anche se volete lasciarci l'email per essere contattati per eventuali corsi quindi intanto grazie mille se avete domande nell'ultimo minuto scrivetele pure nei commenti in chat c'è una domanda di Simone Bianchi che dice secondo lei è possibile utilizzare MySQL con Neo4j beh dipende che cosa si intende però possiamo utilizzare ovviamente tutti i db che vogliamo in un'applicazione ci sono esempi anche che vengono trattati in ambito accademico dove vengono mixati db relazionali e db no SQL di varie tipologie tra di loro altrimenti se la domanda era riferita a far comunicarli tra di loro abbiamo l'etl tool che ci permette anche operazioni di questo di questo genere quindi per travasare informazioni ok mi sembra sensato spero che abbiamo risposto alla domanda non mi sembra ci siano altre domande in chat quindi direi che possiamo possiamo salutarci grazie mille a tutti quelli che hanno partecipato seguiteci pure su LinkedIn e Twitter per seguire i nostri aggiornamenti e i futuri meetup anche grazie mille a tutti e buona serata buona serata a tutti grazie